Passiamo Angiù sta spostando truppe per combattere Pamplona e... Non va bene, secondo me Perché poi se si espande sono più territori che devo conquistare Ah beh, li regalerò a Leon nel caso Comunque è preoccupante che i tedeschi stiano qua, eh Di nuovo, sì, questo lo sapevo La Baviera non so che fa Che è diventata, diciamo, la potenza tedesca dominante Da quello che vedo nella mappa Allora Coloni sotto assedio Balduino di Brabant No, pace all'anima sua Allora, se io sposto questo Tu hai 55 anni, anche te neanche sei giovane A Parigi c'è lui Vai qua giù Oddio, forse Potrei risparmiare i movimenti C'ho la flotta Sfruttiamo la flotta No? Ok Ok Mi ha detto che è Run Eh, quantomeno abbiamo guadagnato un po' di tempo Ok Ok, questo è mio E ci mettiamo altri pezzenti a guardia della città Oddio, ci potrei mettere i pellegrini, eh Quanto costano turno? No, sì Dammi due pellegrini E Dio Kent è anche abbastanza felice Vediamo Scout Con le stabili di Francia Più l'influenza Tu hai 24 anni Penso gli darò un vescovo Sì Oddio, lui per più uno comando Mi sembra più adatto lui a combattere Quindi Lo standardo catturato da Joffrey A lui Quindi standardo catturato Aspetta, eh Che qui è sempre un po' un casino Boemondo Standardo catturato Eccolo qua Confermiamo Quindi Tuo è Abbiamo parlato appunto La Baviera in guerra con Milano Granata con Siviglia E sono in pace Gallesi E Irlandesi Maestro delle armi Che non è male Ok 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 Abbiamo fatto una Ok a mezzo Quindi Tu arrivi fino a qua Abbiamo due arcieri Abbiamo due arcieri Per lui Perfetto Perfetto Mi serve un'altra spia Ovviamente Parigi Abbiamo fatto il campo per le armi d'assedio Buono Molto buono Parigi Che può salire C'è il castello Sì Però Ordine pubblico È meno 10 Tra l'altro costa 9000 Quindi No perché L'altra volta ho fatto Il monastero Qui Cos'era La chiesa di provincia Questo è due turni Questo è due turni Ah intanto Le zone queste qui Un po' più abbandonate Questo è il castello E va bene Qui possiamo fare la strada Se no i diritti Se no la chiesa cristiana Sei turni Sei turni Facciamo questo La strada Bah Non è che mi serva tanto Questo va bene Qui posso fare i campi Narbona La fortificherai Narbona Ok Dolosa sta facendo il castello Chatillon 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 Non c'è niente Deve Deve soltanto fare il castello Anche lei Giustamente Le mura di Poetier Neve non c'è niente Orlean Potrei fare la taverna Potrei fare la taverna Potrei fare la taverna Oppure una chiesa Più 10 al commercio Più 10 al commercio 1630 Eh non è male Vada per la chiesa E poi ci sono le spie No mi devi dare l'insegnamento Non In generale Come non detto Questo è il mercante Eh sì posso fare una spiava A Parigi Però costa 900 Allora questi ci siamo Eh questi sono un po' bastardi Questi però li abbiamo recuperati Quindi Comando tu hai 0 Comando tu hai 1 Comando tu hai 0 Eh questi no Ok Possiamo reclutare qualcosa qui Volendo sì Ah Tedeschi Allora Ehm Mon roi Tornami in giù Ok Ehm Roberto C'è un honore Allora Noi ci offriamo di attaccare Dove sei dove sei dove sei La Bretagna Ehm In cambio chiediamo Informazioni geografiche E che anche tu attacchi la Bretagna Strano 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 Ehm Ci ritorniamo un attimo Prima però Voglio finire gli altri Agenti Tu mi dai 0 Non va bene Tu mi dai 0 Ma se lo spostassi Fammi vedere un po' come la mappa 0 0 0 Come mai mi dai 0 tu Meno di 10 E se lo provassi a buttare in Spagna Questo tanto Vediamo qualche risorsa qui Però è strano che mi dà così poco 8 2 Pesce mi dà 7 Questo mi dà meno di 10 Sei un po' inutile amico mio Andiamo a prendere il vetro Che sono 9 ma Mi dai 0 Questo è sempre qua giù Chi è? Sempre lui Andiamo in Armenia va Questo sta commerciando E mi dà 61 Fa bene Argento Questo sta qui 62 Chi è un po' calando E' cala sempre 69 Anche se non so quanto dureranno Sì Ottanta Va bene così Se potessi avere delle informazioni geografiche magari Dio mio Cosa diavolo Cos'è questo oscurantismo Delle informazioni geografiche Questo non mi serve Questo mi da 95 Questo sta in sassoni Va bene così E ho questo che si sta muovendo Per 48 56 Ok Allora 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 Forse questo Spostarlo qua Non è stata una buona mossa A questi li spacchiamo in due Quindi ritorniamo Al chiedere il transito militare Vos ordri mon roi Bonjour mon ami Que pouvons-nous faire pour vous L'Aquitania non c'è più Quindi Chiederei Un accesso militare Per poter attaccare la Bretagna Non posso certo Sbarcargli Posso attaccare qui E' vero ma Tre unità Facciamo che Passiamo il turno Gli offriamo dei soldi E chiediamo appunto Un transito militare Con la possibilità Anche di avanzare Qui Chi posso reclutare Sergenti a cavallo Vassalli in armi E truppe di base No Direi che possiamo Omerci oltre Mentre qui Posso fare Sergenti Anche qui la stessa cosa Quindi O ci fermiamo a Orlean O ci fermiamo a Toei Sì O a Parigi Che è il punto focale Insomma Ah c'erano questi Vabbè L'ultima è da stargli dietro Prima o poi li recuperiamo Eh sì Mi tocca spostar questo E nel caso Combattere questi Adesso con questo Il prossimo turno Inghaggiamo battaglie Contro questi 14 Magari vengono rinforzati Da questi Non lo so 17 E anche qui siamo a 17 Altri 3 qua Eh sì Dobbiamo un attimo Rimandare al prossimo turno Barra prossimo anno La guerra Alla Bretagna Però a questo punto Se posso Ma non posso Perché non ho truppe 6 unità Penso passeranno Queste sono due Queste sono tre E queste sono due Ebbè Passiamo Niente di che Ciao a tutti Ciao a tutti